I contagi crescono e in Veneto è stata ormai polverizzata la soglia delle 12.000 persone attualmente positive al Covid. La sanità invece regge, anche se viene riscontrata negli ultimi giorni, una tendenza lenta e costante di crescita nei ricoveri. C'è un aumento dei positivi, anche oggi siamo a 734 positivi, quindi negli ultimi giorni sono aumentati, abbiamo raggiunto anche gli 800 giornalieri positivi. L'altro dato però che è quello sempre monitorato e attenzionato è quello degli ospedali. Siamo cresciuti un po' anche negli ospedali, 46 oggi in terapia intensiva e 225, mi sembra 230 in area non critica. Quindi ancora numeri comunque sotto controllo, numeri che comunque ci dicono che il virus sta circolando. I numeri li evitano quindi, ma la possibilità di un passaggio di fascia con il ritorno del giallo sembra essere piuttosto remota. Passaggio di fascia però sappiamo che deve avere due parametri oggi, il superamento del 10% per quanto riguarda le terapie intensive e contemporaneamente il superamento del 15% per quanto riguarda l'area non critica. I nostri valori della cabina di regia di venerdì erano 3% e 3%, sicuramente la settimana che arriva avremo percentuali un po' più alte, però ancora io penso lontane da quel limite. In ogni caso l'appello resta importante. Richiamiamo un po' tutti alla responsabilità, all'attenzione e poi anche alla vaccinazione perché sappiamo insomma che la vaccinazione è sicuramente quello che ci protegge. L'assessore fa infine chiarezza sulla terza dose. In questo momento la terza dose è diretta a tutti gli over 60, quelli che hanno superato i 60 anni e hanno fatto il vaccino da 6 mesi, quindi devono aver fatto il vaccino, la seconda dose da 6 mesi. Poi è diretta a tutti i cosiddetti superfragili di qualsiasi età, quindi possono avere anche 30, 40, 50 anni e al personale dei sanitari. Non ho citato le case di riposo perché le case di riposo fanno parte degli over 60 e dei sanitari. Oggi è diretta a queste persone.